ciao a tutti ragazzi sono te del lembo di benvenuti in questa nuova reaction allora c'è stata la radio 24 ore su pokemon spada scudo e dovrebbero essere dovrebbero aver annunciato cose e penso che aver annunciato polita e rapida forma gara e niente ora vedremo insieme come come sono queste nuove forze di questi portano che a mio padre sono veramente belli fin della prima gen mi sono sempre piaciuti mi piacciono tuttora vediamo che tipo andato a questi pokemon vediamo io ho visto qualcosa di mai penso se quel che penso io è una bella iniziativa niente ragazzi facciamo una versione al trailer che ho trovato eccomi qua ragazzi sono davanti al primo trailer e vediamo questi trailer di questa lei di 24 ore mi chiedono in 24 ore cosa hanno fatto mica hanno mostrato solo quello che vi faccio vedere io perché sarebbe stato un po neoso la cosa no però quanto pare il succo della diretta è questo quindi bando le cianci tanto le bande iniziamo e cerchiamo la camp sta registrando si sto registrando lascio anche un po di volume vediamo questa è una foresta tutto verde questo è una del phantom che abbiamo come tutto in solo uno tipo corretto non sono piaciuto di vedere questo phantom ecco ragazzi quello è un po' sconosciuto quello è un po' sconosciuto ragazzi sembra carino vediamo cos'esce eccolo eccolo ragazzi eccolo eccolo ma tanto e tante ho visto qualcosa ho visto qualcosa muoversi ho visto qualcosa muoversi l'avete visto anche voi prendete un pezzettino un po' avanti vediamo se si vede ancora vediamo un po' avanti non ho scontato ma si è più indietro ma vabbè non mi interessa vediamo 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 perché questo qui l'abbiamo già visto un po' più fa passa avanti non guardare eccolo 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 visto qualcosa spostiamoci nuovamente continuo a spostare la mia camera eccolo qua ancora eccolo qua ancora cosa ha fatto prima cosa ha fatto prima cosa vai cosa vai ciao ciao vai via ecco ragazzi eccolo è rapida è rapida ragazzi sembra davvero tipo spettro tipo folletto bellissimo c'è anche una eccola quella è bonita è bonita quella stilamente hanno dato un design bellissimo intanto bellissimo guarda come ha cambiato che ho posto di entrando a tutti i gari qualche amore sento che andranno tutti i forni guarda ormai c'è una frutta vedi piccaccio ovviamente non può mai mancare sta sempre in mezzo eccolo qua capicaccio guarda come si scappa oh è via via c'è tutti e una chi piaci troppo ragazzi questo primo trailer direi che è andato io ne ho altri due che ora vedremo insieme anche se penso che sono uguali dentro tra poco eccomi tornato eccomi tornato sì ok perfetto perfetto vediamo che altro esce questo qui intanto dura di più 5 minuti di trailer vediamo cosa esce di bello sento lo sento ho sentito l'ho sentito bello profonde l'incanto merite non fattimo lei di 24 ore così che palle che noia ma basta messaggi adesso non si vede più nulla dai su su ah qui sono a fare cosa direi ma non è uguale non è tanto scegliere ma non mi manca ma non mi manca ma non mi manca ma non mi manca siamo a fare cosa vedere la cinquita senti proveniene al vostro questa è tu si vengono con e ma non mi manca ma non mi manca ma ma non mi manca ma non mi manca ma non mi manca ma... ma ma non mi manca ma non mi manca? oh questa è macchina in cerappolino questa è un cell phone io mi ricordo vediamo Eccolo, eccolo, è rapido Eccolo, eccolo, eccolo d'acqua, eccolo, 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 eccolo Questa è una affidata, eccolo, c'è una affidata di sfondo no ma ancora questa cosa ma basta ma basta ma basta vai via vai via vai via niente ragazzi io penso che è finito anche questo trailer manca un trailer che non usa niente però perché l'ho messo da parte lo prendiamo niente ci vediamo troppo eccomi qua ragazzi eccomi qua ne ho ancora avviato il trailer perché praticamente io avanti visto che io la colpo ecco è pronta 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 vieni 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 tutto questo splendore adesso a me è veramente molto carino hanno fatto bene a modificare l'aspetto sicuramente ancora sta cosa ma in tutti i trailer ci sei dunque hanno modificato sicuramente l'aspetto è anche sicuramente con la galat ecco ecco ragazzi rapida guardate è un unicorno a questo video sono foto sono foto questo eccolo si è visto qualcosa pronta 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 qui non si vede nulla a meno io non vedo nulla stata benvenuto e abbiamo visto un filone e che possa poter farlo facciamo tutto manifesting questo l'ho però è finita l'ho però è finita e niente io programmazione e no vabbè vi saluto in camera completa vabbè a tutto schermo vabbè niente io spero che vi sia piaciuto la mia reaction sapete qualcosa che non so fatemelo sapere a voi cosa ne pensate vi piacciono queste nuove forme di ponita e rapidash a me piacciono veramente tanto e niente io vi aspetto per i saluti finali brava ragazzi ragazzi vi ringrazio per la visione spero che questo video reaction vi sia piaciuto se è così pollizzate se non siete iscritti iscrivetevi e noi ci vediamo in questo video brava ragazzi grazie a tutti grazie a tutti